Musica Abbiamo ospitato il primo incontro, la prima data degli Endzone qui a Schio un evento organizzato da AIRM che è molto importante per i fisioterapisti della mano per potersi confrontare sulle proprie esperienze professionali è stato un evento molto sentito, molto partecipato infatti tantissimi colleghi della provincia di Treviso, della provincia di Trento, di Vicenza, di Verona sono venuti qui oggi per portare le proprie esperienze e condividere lavori scientifici l'evento è stato molto gradito ed è stato molto utile anche per avvicinare i giovani terapisti della mano a questo ambito professionale molto specialistico e quindi si auspica di ripetere nel tempo queste occasioni di incontro anche in forma un po' informale per aumentare sempre più la crescita professionale a questo ambito professionale